Allora, direttore generale Sandro Ballucchi, oggi c'era l'esordio in Coppa Italia per questo FC Ponzacco 1920. Quanta acqua sotto ponte è passata da quel 14 luglio 2011 quando siamo ripartiti? Ne è passata tanta, siamo orgogliosi di tutto quello che è capitato, l'abbiamo voluto fortemente. Diciamo siamo stati fortunati nel nostro percorso, aver trovato anche persone che ci hanno dato una mano. Niente, forse è stata la nostra testardaggine che ci ha riportato nel giro di tre anni a riprendere quello scelto che ci avevano derubato. Qui mi ricordo partita, ad esempio, quella contro la Scella che si guardava su un monte di terra, di sabbia, e ora stiamo a giocarci questi finali nazionali. E queste sono le cose più belle, queste sono le cose più belle quando tocchi veramente il fondo e poi riesci a ripartire, quando ti vedi che sei seguito da tanta gente di Ponzacco che condivide con te le gioie, i dolori, che insomma, voglio dire, se ne sono passate anche quelle. Quindi un record che sta continuando ad esistere. Tutte quelle soddisfazioni che forse nessuno nel calcio ha mai provato, perché partire veramente dal fondo è molto più difficile che trovare nuove motivazioni durante le annate. Quindi, niente, io sono estremamente contento di tutto quello che ci è capitato e di quello che sono sicuro capiterà. Ecco, oggi come hai visto la partita? Un 2-1, una vittoria importante che ci permette di andare a Meldola con un piccolo vantaggio. Sì, si sapeva che era una squadra difficilissima il Meldola, quindi su un campo per noi, diciamo, che non dava spazio alle nostre caratteristiche. Quindi i ragazzi sono stati bravissimi perché hanno lottato, hanno subito un pareggio che magari si poteva anche evitare, ma con la forza veramente di una squadra e di un gruppo, sono riusciti a fare la seconda rete. Poi nel secondo tempo, campo pesante, non ricordiamo che domenica abbiamo giocato su un campo simile, quindi era la solita formazione domenica. Quindi, cioè, ci sono tante situazioni che io devo dire che sono bravi ragazzi e andiamo là con tante motivazioni e sicuramente con la consapevolezza che siamo forti. Poi, i risultati, lo sai, in una partita da 180 minuti bisogna sfruttarli tutti, 180 minuti. Come Coppetra Santa, anche oggi, c'erano diverse persone, soprattutto tanti ponzacchini che non vengono molto allo stadio, invece quando sono le partite importanti ci sono tutti presenti. Ponzacco è questa, Ponzacco se gli dà la motivazione risponde sempre al 100%, è bella per questa, ti senti ponzacchino perché anche uno come il presidente Donati si sente ponzacchino su queste cose qui. Perché? Perché si sente seguito, è una sensazione diversa da tutti gli altri posti. Non ci sono posti del calcio dilettantistico come Ponzacco, ce ne sono veramente poco.